Bene gente, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è il secondo di una serie dedicata a chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia ed è segue il video dedicato alla scelta della fotocamera, mentre quello di oggi è pensato per chi vuole avvicinarsi alla cultura fotografica e al ruolo della cultura in fotografia. Ma prima di parlarne, sigla! Allora, questo avrebbe dovuto essere dal mio punto di vista il video con cui iniziare la serie perché nel tempo mi sono reso conto di quanto sia importante la cultura fotografica per esprimersi poi in fotografia, però mi rendo anche conto che chi si vuole avvicinare alla fotografia spesso e volentieri come prima idea alla scelta della fotocamera, quindi questo esce appena dopo il video sulla scelta della fotocamera proprio perché è comunque uno dei punti fondamentali. Una cosa che bisogna dire è che spesso e volentieri chi si avvicina alla fotografia non ha la benché minima cultura fotografica. Io sono anni che faccio corsi di fotografia e capita spesso che quando chiedo generi fotografici preferiti, fotografi famosi o comunque qualcosa legato al mondo della fotografia cadono tutti un attimino dal pero. A me interessa fare foto. Questa cosa pensandoci fa molto strano dal punto di vista di chi la fotografia la mastica da qualche anno perché fondamentalmente la passione per la fotografia non è la passione solo ed esclusivamente per produrre immagini o non è neanche la passione nelle macchine fotografiche ma dovrebbe essere una cosa che abbraccia a 360 gradi queste cose ma la produzione, la cultura e gli altri artisti che hanno contribuito alla storia della fotografia. E invece insomma questa cosa spesso viene presa sotto gamba e c'è gente che davvero nei forum, nei gruppi di facebook ragiona, scrive, commenta immagini e poi gli metti lì una foto famosissima di Riccardi e Bresson e non la riconoscono e ti dicono che magari è storta. È successo più volte nei gruppi di fotografia questa cosa. Dal mio punto di vista la fotografia è un linguaggio ed è difficilissimo imparare un linguaggio escludendo completamente quella che possiamo definire la letteratura e quindi imparare a fotografare, crescere come fotografo implica il fatto di interessarsi alla produzione degli altri fotografi, alla produzione soprattutto dei grandi fotografi. Perché? Perché innanzitutto arricchisce come nel linguaggio parlato o scritto, leggere permette di arricchirlo, di imparare vocaboli nuovi, vedere fotografie soprattutto di grandi fotografi permette e ovviamente ragionarci sopra ok non solo guardarle così ma ragionarci sopra un po' permette di sviluppare il proprio linguaggio e di allargare il proprio dizionario in un certo senso perché magari si vede come un grande fotografo ha organizzato una certa immagine per trasmettere un certo significato. Quindi come ci si può avvicinare alla cultura fotografica in modo sano? Per prima cosa inizio consigliandovi una lettura che secondo me è fondamentale per approcciarsi alla visione delle immagini ed è un libro di Augusto Pieroni che si intitola leggere la fotografia. Vi lascio in descrizione il link su Amazon. Poi una volta diciamo letto questo libro ci si può veramente sbizzarrire con la lettura e l'interpretazione delle immagini però ecco diciamo che non c'è solo questa cosa in realtà bisogna appassionarsi a mostre andare a vedere siti internet ce ne sono veramente veramente tanti e anche comprare libri di fotografi sia magari di teoria che libri di immagini ok? Per esempio un libro scritto da un fotografo molto famoso che si chiama Joel Meyerowitz, sì Meyerowitz dovrebbe essere. Comunque un libro molto interessante che si titola guarda ok sono una serie è un libro pensato per i ragazzi non è un però è un libro che in realtà possono leggere tutti è un libro molto bello in cui l'autore spiega la fotografia i ragazzi e spiega il modo di guardare il mondo per linee per forme per movimento e secondo me è interessantissimo per chi vuole imparare a fotografare indipendentemente dall'età. Poi un'altra lettura che secondo me è stata almeno dal mio punto di vista illuminante è l'occhio così l'occhio del fotografo che non è l'occhio del fotografo il manuale di fotografia ma è un libro di diciamo teoria fotografica ed è edito dal MoMA ok anche di questo vi lascio il link in descrizione vi lascerò il link di tutti i libri in descrizione così farete meno fatica a trovarli anche perché davvero come in questo caso c'è un libro di fotografia che si intitola nello stesso identico modo ma non c'entra veramente un tubo dato che forse questo non è il periodo adatto per andare a chiudersi in un museo andare a vedere delle mostre può essere interessante informarsi ecco su internet perché ci sono tantissimi siti pieni zeppi di cultura fotografica il primo che mi viene in mente è Collateral che ha una sezione dedicata alla fotografia che è veramente stra interessante altro sito molto interessante che parla di cultura fotografica è il blog di Sara Munari che si chiama Musa vi lascio comunque entrambi i link come come prima in descrizione poi ecco diciamo che queste sono le indicazioni fondamentali per avvicinarsi è un percorso culturale quindi un percorso lento ci vuole ci vuole un po di tempo non è magari così immediato però vi assicuro che se vi iniziate a guardare intorno iniziate a guardare fotografie di fotografi famosi a studiarvele a imparare a leggere le immagini le storie che ci stanno dietro vi assicuro che la vostra curva di apprendimento in fotografia partirà ok perché è veramente il salto di qualità lo si fa nel momento in cui ci si appassiona a questo livello di fotografia quindi volevo giusto darvi un paio di punti per ogni per ogni cosa che si può guardare quindi da una parte un paio di letture interessanti per migliorare la propria cultura fotografica dall'altra qualche qualche sito internet interessante per le mostre ci sono un sacco di informazioni su internet anche sul blog di Musa spesso volentieri ci sono delle informazioni sulle sulle nuove mostre sulle mostre in in arrivo e anche sui concorsi che sono interessanti ad andare a vedere andatevi a vedere il wordpress foto c'è un bellissimo concorso di fotografia della sony ci sono tante cose molto interessanti secondo me ci si fa molto di più una cultura così che non andando sui gruppi facebook dove spesso e volentieri la maggior parte delle persone dicono wow davanti a una foto di una bella ragazza o magari si imbrodano davanti a un tramonto ma poi in realtà la foto onestamente non vuol dire un tubo quindi davvero cercate di concentrarvi su queste cose e lasciar perdere un attimino magari davvero i gruppi di confronto così che sono da un certo punto di vista un po sterili spero di aver detto più o meno tutto quello che dovevo dire se volete segnalarmi magari altri siti interessanti o altre letture interessanti lasciatevi nei commenti spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un like ci vediamo al prossimo video ciao